Musica Dimmi dov'è Dimmi dov'è ha detto Tu non ti meriti Queste informazioni Angad Re All'è 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 Gianni... Gianni è nelle mani delle mie... Tutto è iniziato da me e tutto finirà con me. Ho voluto mettervi alla prova per capire se vostre desiti in questo viaggio ed è così che ho deciso di rapire Gianni. Ora che siete giunti fino a me, ne sono certa! Salverete l'umanità! Gianni è libero! Ciao! 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 Ciao!